Continuiamo a parlare di sport, però in questo caso di calcio, con il calcio, mercato del Pescara, brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto riportare in Biancazzurro Dellicarri, difensore di proprietà della Juventus. Brunori riflette e piace il laterale dell'Atalanta Zambataro. Cattive notizie da Torino, dunque Pescara e Juventus sembravano d'accordo per dare il via libera al ritorno in Biancazzurro di Filippo Dellicarri, 22enne cresciuto nel Delfino, invece la trattativa non si è sbloccata. Fumata grigia per Matteo Brunori, l'attaccante della Juventus si è preso qualche giorno prima di dare la risposta definitiva. Nel frattempo, dopo le cessioni di Edoardo Masciangelo al Benevento e Luca Crecco al Vicenza, il Pescara prosegue la caccia a un paio di esterni di centrocampo. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Zambataro, 22enne di proprietà dell'Atalanta, che può giocare sia a sinistra sia a destra. Nella passata stagione si è messo in mostra in Cine il Monopoli, 32 gare e 5 gol. Infine domenica a Palena, prima amichevole stagionale contro lo Spoltore, fischio d'inizio alle 16.30, potranno assistere al match 300 spettatori. Auteri potrà contare sui neoacquisti Eugenio Dursi e Franco Ferrari, che dopo la firma dei contratti ieri hanno raggiunto la sede del ritiro e nel pomeriggio si sono allenati con i compagni.